portiamo bitcoin nelle piazze buongiorno ragazzi e ben ritrovati oggi non sono di nuovo da solo ma sono in compagnia di gianluca gianluca una persona che ho conosciuto da poco ma che si sta impegnando veramente tanto e magari alcuni di voi già lo conoscono perché ha un canale youtube che si chiama cripto agile e poi è anche diciamo l'ideatore del sito bibit un sito sulla quale ci sono una serie di prodotti tanti veramente tanti prodotti che si possono acquistare solo ed esclusivamente in bitcoin ma oggi l'ho chiamato per un altro motivo per un'iniziativa un pochettino particolare diversa dal solito che diciamo l'idea di realizzare un flash mob a milano quindi innanzitutto io vi faccio salutare un attimo gianluca e poi espandiamo un pochettino questo questo discorso e ve lo presentiamo in modo tale che anche voi sappiate di che cosa stiamo parlando e magari vi viene anche voglia di partecipare eventualmente quindi gianluca se vuoi presentarti grazie 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 dell'ospitalità grazie praticamente di condividere questa idea questa follia piccola follia che si inizia a fare sì mi hai detto quasi tutto sono gianluca fino avanti mi sono un appassionato di bitcoin ormai da 2017 quindi sono cominciano a essere qualche annuccio e una cosa che noto molto spesso essendo anche poi un sociologo e quindi per deviazione proprio professionale vedo che in realtà siamo un po' una community autoreferenziale che significa autoreferenziale non è una cosa brutta ma tendiamo a vedere cose tra di noi a scambiarci idee tra di noi a rinforzare correttamente attenzione l'idea della bontà del progetto bitcoin all'interno del nostro mondo del mondo però non usciamo molto spesso non riusciamo a essere incisivi a orange pillare molto le persone e io sono un po' fissato su questo con cui mi dicono pure che sono troppo fissato perché cerco sempre di trovare delle modalità per far vedere il più possibile bitcoin fuori anche dal nostro mondo quindi ecco bbit nasce proprio come una provocazione perché bbit store è praticamente l'unico e-commerce dove puoi scegliere di pagare in bitcoin o in bitcoin e lo faccio perché quando vedo che le persone arrivano alla fine e caricano il carrello ma non riescono a pagare perché magari pensavano che alla fine di trovare un visa un mastercard un paypal cosa che nel nostro sito è stata bannata in realtà si fermano io se hanno lasciato un email o un numero di telefono o quello che sia li contatto per chiedergli se vogliono aiuto per capire come funziona il pagamento in bitcoin e l'it network on chain o off chain questo perché perché in realtà così cerchiamo di introdurre degli elementi nuovi altrimenti saremmo un po negheremo la nostra natura noi siamo convinti che il bitcoin debba essere una moneta essendo una moneta deve essere spendibile utilizzabile dall'altra parte siamo invece dei grandi detentori perché tutti noi siamo dei grandi odler nel senso dire che teniamo i nostri bitcoin in modo proprio anche quasi come dire maniacale e di cui ne sono parte anch'io di questa di questa cosa e quindi non li spendiamo però non spendendoli in realtà neghiamo la parte monetaria e questo è un po l'idea di partenza poi durante un meeting quello di brescia praticamente di di brescia quello che è stato fatto a brescia del bitcoin forum di gigi turla gigi che poi sarà parte ci aiuta anche su questo progetto poi ne parliamo mi è venuta l'idea di dire bel molto bello siamo 750 bitcoin era una cosa eccezionale ma non ho visto nessuno avvicinarsi che non sia non fosse già bitcoin quindi siamo efficaci nella propagare la nostra idea all'esterno per me non tanto l'idea quindi è quella di fare una cosa che si fa normalmente ma i bitcoin non fanno un flash mob allora avvertenze ci tengo tantissimo a dire che è su inizia su come dire scelta personale perché per noi come sapete la privacy è fondamentale quindi nessuno si deve sentire come dire obbligato a farlo perché siamo privati quindi se uno non vuole fare il flash mob ma benissimo è una scelta sua liberale che io apprezzo tantissimo perché per me la privacy come diciamo da sempre dal 93 diciamo dai belli con la causa quindi dei graffer punk la privacy è qualcosa non segreta ma è qualcosa che io posso rivelare al mondo quando voglio questo quando voglio è l'atto più grande della privacy cioè se voglio o non voglio vanno bene tutte e due quindi non non è un qualcosa che debbono fare tutti però come me come te ci mettiamo la faccia normalmente sui video tutto quanto parlando di bitcoin e cercando di portare avanti questa idea perché non farlo su una piazza sì 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 no no è proprio quello è l'idea di uscire dalla comfort zone cioè vedo anche io come ti raccontavo prima diciamo off camera che per me la sfida è creare video mettersi lì dietro una telecamera cosa che magari non è facile per tutti anche io sto ancora imparando a essere presentabile studiare gli argomenti proporle alle persone ma se sai comunque che tu li vai a proporre a persone che già sono interessata a questo mondo che già sono dentro questo mondo quindi ti interfaccia con persone che tendenzialmente la pensano come te ti conoscono magari invece il fatto di scendere in piazza andare proprio in mezzo alla gente che magari o non ha mai sentito parlare di bitcoin o pensa che questi qua siano degli scappati di casa che non sa cosa fanno oppure magari anche persone che vorrebbero interessarsi vorrebbero approfondire ma non sanno da dove cominciare se vedono che c'è gente in piazza che parla di bitcoin magari cominciano ad avvicinarsi ecco c'è proprio un modo di di provare a alzare l'asticella a farsi vedere ea farsi vedere da persone che magari non sanno neanche che tu esisti e sono d'accordo con te sul discorso di della volontà di partecipare o meno quindi a me ad esempio interessa far conoscere far sapere alle persone che c'è questa possibilità che ci sarà questo chiamiamolo evento poi uno può anche non iscriversi al gruppo che hai creato poi magari ne parliamo può anche non dirlo a nessuno e magari presentarsi volontariamente la facendo finta di essere uno spettatore ma partecipare vedere che cosa succede cioè si è liberi di fare qualsiasi cosa l'importante secondo me è saperlo e quindi l'idea era proprio quella di far sapere che ci sarà questa cosa poi ognuno è libero di fare assolutamente quello che vuole grazie grazie di questa opportunità perché proprio quello lo spirito addirittura serviranno tantissime persone che magari riprendono quello che sta avvenendo e pubblicano sui social perché poi l'effetto del flash mob non è che noi noi faremo il video del flash mob ma che altre persone incuriosite di quello che sta succedendo in modo come dire spontaneo riprendano le quello che succede e magari lo pubblicano questo effetto leva è quello che andiamo a cercare perché dobbiamo cercare di a parer mio contrastare un po il racconto che c'è oggi sul nostro mondo l'ultimo intervento di di panetta nell'avi quindi come dire nell'associazione bancaria italiana ci definisce tutti un po come dei truffatori della gente poco buona un pochettino come dire che siamo sulle nostre perché vogliamo truffare non vogliamo pagare le tasse o cose del genere io sinceramente a questa narrativa stupida sinceramente vorrei dire basta cioè ma se non andiamo ad incontrare la persona che purtroppo conoscono sentono questa narrativa perché la narrativa ufficiale del mainstream dobbiamo proporre una narrativa nuova una narrativa diversa una narrativa gentile come dico io cioè non voglio non faremo nulla di eclatante eclatante non faremo nulla che sia impattante in modo non gentile con le persone faremo quello che siamo bravi a fare a mettere il semino a proporre la scelta tra la pillola arancione non quella rossa noi quella arancione e quella blu nel senso di dire scegli te cosa vuoi fare sappi che c'è la scelta puoi credere al come dire al governatore della banca d'italia che dice che siamo dei praticamente degli evasori fiscali e credere altrimenti invece a noi che ti facciamo vedere che non siamo null'altro che persone come te che cerchiamo di salvaguardare i nostri risparmi e quindi abbiamo capito che qualcosa non funziona questa è la è l'approccio tanto è vero che quello che andremo a fare sarà una cosa molto molto semplice cioè noi ci presenteremo praticamente non so se posso raccontarlo blanche così magari facciamo venire un po di assolutamente anzi entriamo magari un pochettino più nel dettaglio diciamo che in fase di definizione a quanto capito quindi allora eventuali date e cose ok allora saltate dentro al se siete interessati sempre fate un salto dentro al gruppo che è stato creato flash mob milano su telegram li lascio poi magari in descrizione in link così ci accetta direttamente ma lì nella prossima settimana voi entrate e esprimete la vostra volontà di adesione la prossima settimana cominceremo a fare un gruppo chiuso invece quindi chi si è interessato entrerà nel gruppo chiuso qui non più un gruppo aperto perché anche difficile da tenerlo pulito i vari scammer purtroppo è un lavoro diventa entriamo su un gruppo privato e faremo un po il dettaglio definitivo e finale della cosa comunque il flash mob dovrebbe essere ci mettiamo un condizionale ma abbiamo avvisato già tutti quindi sarà il 19 settembre il 19 settembre a milano non vi dico location e tempo perché lo saprà chi partecipa al flash mob e chi vuole essere dei nostri cosa andremo a fare non so se conoscete quella bellissima canzone exit to the matrix di costa famiglia eh è una canzone bitcoin è un bitcoin che ha fatto una canzone con delle parole molto forti con ritmo molto forte è un ragazzo con il suo gruppo che tra parentesi vive fuori dall'italia ma prenderà un volo e parteciperà vuol partecipare a questa iniziativa quindi faremo una cosa simpatica un po la scena sarà che loro suonano in strada abbiamo già richiesto l'autorizzazione tutto quanto per suonatori di strada a milano quindi suoneranno in strada e suoneranno la loro musica a un certo punto su metteranno fuori un cartello che si può pagare anche fare donazioni in bitcoin arriverà un signore che bippa e paga in bitcoin e a questo punto cambia un po il discorso useremo le maschere di eh v di vendetta quindi di anonymous eh ci metteremo le maschere eppure lui si metterà le maschere che comincerà una musica molto più bitcoin oriented su questa musica piano piano appariranno tutti i bitcoiner tutti con la maschera tutti con il cappellino ognuno con la maglietta che desidera perché intanto ci abbiamo tutti qualche maglietta bitcoin ero partito con l'idea di fare un'omologazione di magliette ma poi ho detto ma intanto ognuno ha la maglietta che ama di più che che lo rappresenta di più quindi verrà con la maglietta della sua azienda verrà con la maglietta delle sue idee verrà con la maglietta della sua provocazione e praticamente sglotoleremo uno striscione con scritto sta di bitcoin quindi studia bitcoin fine quindi le persone vedranno delle persone un pochettino alla casa di carta ma tutta in riga con scritto una cosa che è un messaggio molto semplice studia bitcoin se di queste persone che ci vedono e ci vedranno online anche l'un per cento dirà ma che sto bitcoin e cominciamo a vedere lo digito tra virgolette sulla tastiera e cerco di capirlo cercando di fare ricerca da solo e non dal mainstream abbiamo vinto e per me la cosa è fatta il tutto durerà tre minuti niente di strano finita la musica ce l'andiamo richiudiamo il coso ce l'andiamo e ce l'andiamo tutti a bere una bellissima birra tutti insieme per divertirci stare insieme e condividere questa cosa probabilmente faremo una bella foto sotto banca d'italia sempre un portano scritto a bitcoin a farci un'altra foto magari a piazza mezzanotte sotto la stato quella di che praticamente fa un gesto simpatico a love non si è mai capito se poi la stata love e poi ci andremo a bere una cosa insieme tutta questa cosa sembra semplice in realtà per essere estremamente chiari perché voglio che questa cosa sia gentile perché noi gli italiani hanno inventato la gentilezza quindi vorrei propagarla anche nel modo di comunicare queste cose eh ho già avvisato la il la polizia municipale eh gli ho mandato già una pecca ho avvisato la il l'ufficio degli interni quindi l'ufficio di gabinetto quindi il questore gli ho mandato un'altra email che carinamente hanno già risposto della serie guardate che per un flash mob del genere non dovete eh richiedere autorizzazioni perché è garantito dal diritto costituzionale di libera praticamente manifestazione però io gli ho detto comunque quindi sono stati molto contenti che non li abbiamo avvertiti eh perché tra parentesi la cosa carina il mondo è fatto di persone ho mandato l'email dopo cinque minuti mi hanno risposto mi hanno telefonato perché chi ha ricevuto di me è un bitcoiner perché il programma e ha detto che figa questa cosa che potete fare allora viene anche lui parteciperà anche lui dai mi ho detto infatti di partecipare però sai per motivi professionisti tutto ovviamente però per dirti che culo no nel senso della parola quindi abbiamo avvertito tutti abbiamo stiamo prendendo tutte le autorizzazioni per quel giorno per quella piazza per quel momento tutto quanto ci divertiamo eh tre minuti poi ci leviamo le maschere quindi non siamo saremo riconoscibili riconoscibili perché alla fine non è che andiamo in giro mascherati per voler nascondere ma in realtà per voler dire siamo tutti Satoshi Nakamoto quindi se vuoi un'informazione non cercare di trovare cioè studiate e cerca di diventare te parte del 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 progetto e poi ci andiamo a bere questa birra insieme quindi chi vuole questo è il progetto una cosa molto semplice l'idea poi se andrà bene è quella un domani di poterlo replicare nelle varie città quindi partiamo da Milano ma perché anche essendo io romano vivo a Milano quindi per me la cosa più semplice però già ci sono altri bitcoin che hanno detto ah bella la vorrei fare pure nella mia città e tutto il resto e quindi potremmo diventare una piccola organizzazione di 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 proposta di uscita praticamente dal mondo prettamente youtube web instagram x dove viviamo costantemente e ci rinforziamo costantemente nulla che vuole essere né politico né movimento né lasciate perdere sta roba vogliamo veramente soltanto dire alle persone studia bitcoin perché probabilmente ti potrebbe essere utile poi libertà personale di tutte e di chiunque perché siamo liberali libertari totalmente libertari liberali comunque crediamo nella libertà in modo più assoluto ognuno poi fa la sua scelta quindi chi vuole viene chi vuole ci dà una mano ci può essere di mano anche venire fare la ripresa da esterni e proporli sul social è comunque un supporto non gradito proprio richiesto necessario e poi niente saremo tutti insieme sono dei bei personaggi che già hanno aderito del nostro mondo eh quindi abbiamo anche la sponsorship come dire del da 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 zucco eh Marco Crotta sarà dei nostri Gigi Turla sarà dei nostri eh è già di di bitcoin people sarà dei nostri quindi alla fine fine sarà anche un bel momento per incontrarsi tra di noi e spingere un pochettino avanti la nostra idea il nostro sogno quindi questo è quello che stiamo a fare bello 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 no molto interessante anche il fatto di di renderlo diciamo riproponibile anche anche nelle altre città perché secondo me eh se si se qualcuno magari è interessato e vuole poi proporlo nella società magari si contattando magari Gianluca così si può già avere una sorta di infarinatura di impostazione generale su come poter tirare su un flash mob che poi è un discorso di appunto tre quattro minuti ma sappiamo che comunque a organizzare eh quando si a che fare con le persone eh comunque tutto questo porta via tempo eh risorse e quindi se si ha già un qualcuno che dà eh un'impostazione potrebbe essere molto molto utile e sarebbe veramente una figata portarlo su anche solo in circa sei città eh secondo me sarebbe sarebbe veramente curiosa eh anche perché poi diventeremo un po' più visibili quindi come dire la gente comincia a capire che eh può cercarci e possiamo può entrare può eh come dire eh ampliare la propria conoscenza facendo da loro la loro esperienza di studio di apprendimento perché se poi rimane sempre soltanto al mainstream ultimamente la comunità europea sta scrivendo delle cose orribili contro le criptovalute un approccio veramente non so se la fiammata finale ma anzi per me è la fiammata finale eh non so che dire solo che loro il problema è la loro potenza di fuoco perché poi appunto l'autorità è sempre vista come quella no eh la quale credere e quando sparano certe certe cavolate eh il problema è che poi la gente gli va dietro quindi questa proposta gentile di di scendere in piazza secondo me potrebbe essere una una sorta di di alternativa per far capire che comunque ci siamo perché è vero cioè noi siamo presenti online ma bitcoin già di per sé è una cosa intangibile difficile da da comprendere per chi è fuori se ci chiudiamo online e la gente fatica a trovarci scendendo in piazza facendo vedere che anche noi siamo persone cioè non siamo mostri e ti diciamo guarda che hai la possibilità di studiare bitcoin che non è quello che ti raccontano gli altri secondo me già questo davvero potrebbe aiutare veramente a a piantare il seme e poi è chiaro che ognuno deve deve approfondire per conto suo ma già il fatto di di scendere in piazza di farci vedere concretamente è una cosa che già solo quella vale cento video che io posso fare su youtube secondo me quindi complimenti cerchiamo di parlare con la qui si dice la sciura la signora no perché la sciura milanese capisce e gli viene la curiosità abbiamo vinto se rimaniamo tra di noi sì siamo una bella tribù e a me piace tantissimo fatti video sulla tribù siamo una tribù siamo veramente anche simpaticissimi cioè io ho degli amici assolutamente che sono veramente anzi ci accomuna questa passione questa follia e tra folli forse ci capiamo di più quindi ci piacciamo pure però adesso dobbiamo parlare a tutte le persone che di fuori mi dicono perché io ho questa cosa mi dicono sempre ma tu credi al bitcoin no come se fosse una religione una religione e gli dico guarda io non credo a nulla non credo al bitcoin ma manco non credo a cose più importanti pensa al bitcoin in realtà non è dogmatico non è dogmatismo il bitcoin e noi lo mettiamo sotto stress sotto dubbio tutti i giorni per sapere per capire se è una cosa buona o meno finora ha resistito quindi finora il bitcoin ci ha dato il la prova che sta funzionando come noi pensiamo che debba funzionare e sta facendo delle cose incredibili quindi noi ti diciamo studialo non crederci cioè non 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 don't trust verify che poi il nostro credo no nel senso di dire noi non crediamo a nulla noi andiamo a verificare le cose quindi nel modello san tommaso mettiamo il dito dentro ecco noi dobbiamo fare sta cosa anche con le persone cioè se dire guarda non venire certo tanto è vero che eravamo partiti dicendo diamo dei volantini facciamo un alla fine abbiamo detto no perché qualsiasi cosa andiamo a fare in un certo senso li forziamo pure noi a prendere una strada che è quella che decidiamo noi perché che cosa ti faccio leggere come primo libro allora bitcoin standard però per alcuni è troppo no cioè parti da cosa allora abbiamo detto sono solamente studia bitcoin stati bitcoin fine poi come inizi se lo fai da instagram se lo fai da x se lo vai a fare da youtube l'importante è che digiri questa parola e cerchi di capire il perché è importante una volta fatto questo ragazzi abbiamo vinto fine dei discorsi se lo riusciamo poi a rifare su altre piazze noi adesso facciamo questa prima esperienza dopo di che avendo una prima esperienza possiamo aiutare chiunque voglia quindi anche chiunque vuole organizzarlo può sulla propria città entra in contatto direttamente con noi e praticamente lo aiuteremo eh per quanto c'è possibile nonché banalmente facendoci una bella passeggiata nella sua città e dandogli una mano fisicamente a essere presenti perché poi la più grande mano che si può dare a un flash mob è andare al flash mob partecipazione la partecipazione quindi eh se partiamo saremo magari pochi o tanti che saremo a Milano ma è il primo esempio magari ne saremo un po' di più a Bologna poi ne saremo un po' di più a Roma un po' di più a Torino e così via e cercheremo di portare avanti l'idea naturalmente sempre per le persone che vogliono rinunciare alla loro privacy per tutti quelli che invece vogliono rimanere nell'anonimato che Bitcoin garantisce per costituzione meglio ancora per software eh che protocollo per protocollo bravo grazie eh rimangano anonimi e nessuno giudicherà mai anzi eh sono sempre parte del nostro mondo anzi sono la parte più grande del nostro mondo qualcuno che ci vuol mettere la faccia magari lo troviamo io e te ma come molti altri lo facciamo continuamente su una piattaforma pubblica a questo punto lo faccio pure in piazza non ho problemi certo io su questo ufficio vedi questo è un ufficio che praticamente io ho un punto fisico a Milano quindi sanno tutti che qui si parla di queste cose quindi non io non scappo neanche fisicamente c'è proprio l'ufficio quindi non certo sono estremamente poco privato su questo no no bene bene allora dai io direi che abbiamo diciamo eh raccontato un pochettino qual è l'idea che ovviamente si sta già concretizzando quindi io direi che eh se qualcuno è appunto interessato vuole vuole capire che cosa succederà quando o come può eh entrare nel gruppo telegram comunque vi la ve lo lascio poi in descrizione così c'entrate direttamente e vedete se eventualmente fa per voi vi interessa volete partecipare oppure no intanto nel gruppo poi troverete le eventuali date luogo l'ora tutte tutte le informazioni necessarie potete anche tranquillamente come diceva prima Gianluca entrare dare un'occhiata a vedere quali sono le date e gli orari anche non è obbligatorio comunicare la vostra partecipazione quindi voi semplicemente acquisite l'informazione poi decidete se presentarvi oppure no nessuno deve sapere se voi verrete oppure no libera scelta l'importante è che appunto magari entriate nel nel gruppo per per dare un'occhiata per capire per avere le giuste informazioni ecco e quindi io direi che che questo è quanto io vi dico già che ci sarò quindi sarò presente salvo salvo i visti sarò presente all'evento quindi è anche un modo per per conoscersi e per vedersi di persona che quello ci vediamo ci beviamo una cosa stiamo insieme poi con una birra in mano diventa sempre tutto più semplice più e più colloquiale più e più più bello dai alla fine poi il ritrovarsi sempre un qualcosa di piacevole e va bene io direi che abbiamo detto tutto non so se vuoi aggiungere ancora qualcosina ti volevo ringraziare di questa occasione grazie dell'ospitalità del tuo canale grazie del tuo impegno e grazie del fatto che ci vedremo insieme faremo questa piccola cosa nuova questa novità e poi vediamo grazie a te divertiamo dai ma l'importante è divertirsi esatto esatto grazie a te per aver avuto questa idea che secondo me è geniale e io direi ragazzi che per oggi è tutto e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video ciao